e vi illustrerò il gioco dei calzini. In questa cesta abbiamo 4 paia di calzini bianchi, 3 paia di calzini neri e 2 paia di calzini verdi. Questa cesta è in una stanza a buio e noi vogliamo trovare il meno numero di calzini che dobbiamo prendere affinché possiamo indossare un paio di calzini dello stesso colore. La risposta è 4 perché se noi ad esempio prendiamo un calzino bianco, uno verde e uno nero, l'altro che prenderemo sarà per forza bianco, nero o verde e quindi potremo avere un paio.